Siamo ancora una volta con Salvo Marfia, candidato sindaco di Altofonte, col quale parleremo un po' del suo programma elettorale in vista dell'appuntamento di domenica prossima. Dottor Marfia, qualche punto programmatico del suo bagaglio? Sì, direttore, se mi permette però prima di parlare del programma vorrei ringraziarvi per lo spazio che avete cercato di dare a noi candidati, cercando di organizzare un confronto, anche ultimamente attraverso un'importante emittente televisiva teleoccidente, se non ricordo male. E purtroppo mi dispiace ancora una volta notare che gli altri candidati non hanno ritenuto opportuno di presentarsi a questo confronto per rendere conto ai cittadini del loro programma e delle loro idee. Ecco, io questa cosa la dico con dispiacere, ritengo che sia una cosa profondamente sbagliata, perché se già durante la campagna elettorale i candidati non rendono conto ai cittadini dei loro programmi e delle loro idee, figuriamoci quando saranno sindaci, se e quando li troveranno i cittadini. Lo abbiamo fatto perché riteniamo che il confronto sia la principale arma di informazione, usiamo un termine improprio, quella di arma, ma diciamo che la riteniamo la principale arma di informazione nei confronti dei cittadini, dal quale non può che arrivare sicuramente qualcosa di positivo. Io comunque ci tenevo a ringraziarvi e naturalmente mi farebbe piacere anche prima che ci sia il silenzio elettorale, se qualche altro candidato è disposto, io sono ben contento di confrontarmi con lui e di parlare delle soluzioni che abbiamo ai problemi del Paese, perché a scrivere i programmi con i principi generali senza dare soluzioni, insomma questa non è una cosa particolarmente difficile per nessuno. Se vorrà, chiunque vorrà, noi saremo qui a sua completa disposizione. Tornando al suo programma elettorale, parliamo un po' di politiche sociali dal momento che respiriamo tutti una crisi sempre più dilagante che costringe la gente a stringere ulteriormente la cinghia, crisi che fa sì che tanta gente non arrivi a fine mese. Che idea si è fatta? Beh, intanto quella delle politiche sociali è una delle tematiche più sensibili e più avvertite, perché ancora è molto ampia la fascia della popolazione che soffre la crisi economica, le famiglie ma anche singoli, e da questo punto di vista noi dobbiamo attivarci per dare tutte le risposte che sono necessarie per alleggerire questo peso. In particolar modo noi attiveremo tutte quelle procedure che sono previste dalle regi regionali come la legge 328 per quanto riguarda i centri anziani, i centri per giovani e i centri per disabili soprattutto. E da questo punto di vista la nostra attenzione alle politiche sociali che riguardano i soggetti con disabilità vede con concretezza la designazione dell'assessore Roberta Lupo, che è una coordinatrice provinciale dell'Associazione Italiana Scleosi Multipla. Però mi permetta di dire dire direttore su questa cosa, che per quanto riguarda l'organizzazione dei centri sia di anziani che di minori, a me fa un po' specie che trovare nei programmi dei miei competitori che loro procederanno a fare il centro per l'anziani. Queste cose si fanno con delle somme, con dei finanziamenti regionali che sono previsti dalla legge e quindi io non l'ho neanche scritto nel mio programma, perché arriveranno i fondi e qualsiasi sarà il sindaco e la futura amministrazione non dovrà fare altro che prendere questi soldi e attivare i servizi. Sempre parlando delle difficoltà economiche in cui vanno incontro le famiglie, c'è un modo per alleggerire un po' la pressione tributaria? Tutti i cittadini vedono il Comune come un ente che si presenta al momento di riscuotere del denaro, che poi però fornisce purtroppo dei servizi non sempre eccellenti. Sì, assolutamente. Anche questa è una problematica molto grossa, perché abbiamo una pressione fiscale enorme. Noi possiamo intervenire però soltanto sui tributi locali, non certamente sulle tasse di livello nazionale che sono regolate per legge. Questa tematica della pressione fiscale, però, direttore, se noi, come ora le dirò, pensiamo alle ipotetiche soluzioni, si collega anche con le politiche sociali, perché attraverso la forma del baratto amministrativo che noi attueremo, consentiremo ai cittadini, soprattutto quelli che si trovano nelle fasce più povere, di poter svolgere pochissime ore di servizi sociali che faranno del bene alla comunità, come ad esempio la tutela e il prendersi cura di una piccola area di verde pubblico, e questo di contro potrà far sì che il cittadino usufruirà di uno sconto sulle tasse locali comunali. Sempre a proposito di verde pubblico o comunque di cose che appartengono a tutta la comunità, il cittadino molto spesso vede le condizioni delle strade o dell'illuminazione o delle aiole che versano in condizioni non sempre ottimali. Avete predisposto già un piano per questo tipo di intervento? Sì, sotto questo punto di vista noi intendiamo creare la squadra per le piccole manutenzioni, perché i problemi che vanno dalla piccola buca alla lampadina che si fulmina, oppure alla guarnizione del rubinetto della scuola che si rompe, non possono avere un tempo di attesa di ben 4 o 5 mesi per fare l'intervento e dobbiamo aspettare sempre la gara. Per queste piccole manutenzioni invece noi abbiamo intenzione di creare la squadra per le piccole manutenzioni, che sarà un ufficio apposito con un numero che verrà dato ai cittadini e ciascun cittadino potrà chiamare per segnalare la buca, la lampadina che si è fulminata oppure il rubinetto della guarnizione a scuola che si è in pratica rotto. In questo senso noi che cosa faremo? Utilizzeremo tre o quattro dei dipendenti comunali per costituire questa squadra, ci sarà una persona che seguirà i lavori e certificherà che i lavori vengano eseguiti bene ed a regola d'arte e noi in questo modo siamo sicuri di poter fare degli interventi in 24-48 ore utilizzando il personale comunale e utilizzando già le somme che noi abbiamo in bilancio per le manutenzioni e quindi questa sarà un'operazione assolutamente a costo zero. Tra l'altro mi permetta di dire sia sulla squadra delle manutenzioni che sul baratto amministrativo che noi abbiamo già non solo ideato questo tipo di soluzioni, ma io durante questi cinque anni ho già portato delle proposte in consiglio comunale sia quella che riguarda la squadra delle manutenzioni sia quella che riguarda il baratto amministrativo che sono state approvate dal consiglio comunale ma purtroppo, non so spiegarne bene io neanche i motivi, non hanno trovato attuazione attraverso le solite problematiche burocratiche che se sarò io sindaco questa volta vedrò di fare in modo di superarle. Quindi queste proposte, se diventerò primo cittadino, saranno una priorità e saranno certamente attuate. Cambiando discorso, è di poche ore fa l'appello del consiglio pastorale della parrocchia di Altofonte rivolto a tutti i cittadini, soprattutto ai cattolici, di utilizzare la coscienza nel momento in cui effettueranno la loro scelta nel segreto dell'urna. L'invito ha un voto di coscienza e ha un voto di consapevolezza. Come lo vede il dottor Marfie? Guardi, io lo vedo intanto che ho letto in maniera molto approfondita e con grande interesse queste indicazioni date dal consiglio pastorale della parrocchia di Santa Maria d'Altofonte. È davvero un testo illuminante che invito tutti i cittadini ad approfondire e secondo la mia opinione di questo testo si ritiene che anche i cristiani debbano avere un'attenzione per queste elezioni, perché fare attenzione alle elezioni significa compiere una scelta consapevole e questo presuppone il fatto di essere informati. Per cui a maggior ragione sono rammaricato che gli altri candidati non abbiano voluto fare questo confronto per informare i cittadini e ritengo che le istituzioni ecclesiastiche locali abbiano ben operato per sensibilizzare anche i cristiani e cattolici di questo Paese a compiere una scelta con consapevolezza e la scelta consapevole non può che essere una scelta che parte dalle informazioni e dal confronto tra le varie candidature in campo e anche dal punto di vista programmatico. Infatti il testo del consiglio pastorale invita a valutare bene le varie proposte e a scegliere candidati anche attraverso soprattutto naturalmente le loro competenze e le loro caratteristiche etiche ed umane. Quindi sono molto contento di questa cosa e naturalmente non solo come candidato sindaco ma anche come cristiano e cattolico la condivido pienamente. Ringraziamo e salutiamo Salvo Marfia, candidato a sindaco del Comune di Altofonte che ricordiamo concorrerà per la poltrona di Primo Cittadino domenica prossima dando a tutti il più cordiale a risentirci. Grazie.